Buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo con il dottor Dell'Anna per parlare di chimica. Lui è un chimico e ci propone ogni anno un percorso molto particolare attraverso delle figure emblematiche del mondo della chimica. Oggi la lezione si presenta molto curiosa, perché la chimica da spettacolo è un titolo senz'altro molto accattivante. Io le cedo la parola e buona lezione a tutti. A lei dottor Dell'Anna. Buongiorno, bentornati a questa seconda puntata. È un titolo accattivante perché andiamo indietro al 1600 con Henning Brandt e arriviamo fino allo scorso anno con Miss America. Vi chiederete cosa c'entra Miss America con la chimica. Insomma lo vedremo fra poco. Io adesso però avrei bisogno di mandare avanti la diapositiva. Eccolo là, perfetto. Facciamo una piccola premessa, poi andiamo proprio all'argomento della lezione. C'è un libro del 1677 scritto da tale Francesco Maria Massari, di cui si sa che era un benedettino, ma poco altro, se non appunto che ha lasciato questo libro, scritto in forma particolare, simpatica diciamo. Cioè in forma di dialogo, c'è un dialogo fra il maestro che si chiama termico e l'allievo che si chiama angelico. E il maestro chiede al suo allievo come si fa una determinata operazione della chimica. E quando gli chiede come fai a preparare il sublimato di mercurio, lui inizia dicendo «Chimica non si può manipolare senza la pratica». E racconta di un incidente che gli era occorso quando, ora utilizzando le istruzioni di un manuale che era il Lucatelli Teatro d'Arcani, scritto da un medico paracelsista, sempre del 1600, e dice che non sapendo esattamente come manipolare le sostanze, ebbe un incidente. Leggo cosa dice l'allievo angelico. «Il vaso crepò che mi ebbe quasi ad uccidere per gli pezzi del vaso che mi saltarono verso la faccia e per gli fumi velenosi che ne usciano». Ecco, mi è sorpreso trovare in un manuale del 1677 questa attenzione alla pratica di laboratorio e alla pericolosità che il laboratorio di chimica può portare con sé. È simpatica questa cosa qua. Se posso avere la seconda diapositiva? Ecco, il laboratorio e la chimica sono assolutamente connessi, inseparabili. Questa bella immagine, che è del 1816, ci raffigura una lezione di chimica in cui il chimico, quello che si vede un po' più grandino d'età, che è l'inglese Brandt, fa una dimostrazione su come si prepara il brù di Prussia, ha un suo allievo, che è un po' di meno che, diciamo così, Michael Faraday, il grande chimico e fisico Faraday. In chimica è importante, in questo rapporto continuo tra la teoria e la pratica, ed è importante avere una guida quando si va in un laboratorio per evitare brutti incidenti. Se posso avere la diapositiva successiva, posso far avanzare io o no? No, oggi no. Perfetto, ma va benissimo così. Va benissimo così. Veniamo appunto all'argomento di oggi. Nella guida, nel libretto, ho scritto, gli esperimenti chimici sono di processi conoscitivi, cioè sono di processi che portano a implementare la conoscenza dell'allievo, ma qualche volta sono anche degli spettacoli, sono anche affascinanti e spettacolari. E in passato era un'abitudine, insomma, degli scienziati, parliamo di 1600-1700, ma ancora nel 1800, di realizzare degli esperimenti nelle corti europee, sia per questioni didattiche, ma anche per stupire. Se passiamo avanti, Miss America, la futura Miss America, perché ancora non lo era, deve essersi ricordata di questo particolare e ha allestito un esperimento veramente spettacolare, come l'ho chiamato lì, degno di un Luna Park della chimica. Andiamo avanti, e poi arriveremo anche a Miss America, però partiamo dal 1600, e partiamo da una scoperta di una sostanza che era stata chiamata all'inizio fuoco freddo. Qui ho messo paperino, sempre per ricordare che il laboratorio è pericoloso, quindi non mettiamo le mani dove non sappiamo metterle. Andiamo avanti. Partiamo con un chimico, si fa per dire, poi capirete perché. Hennig Brandt, nato ad Hamburgo nel 1630 e morto nel 1710, sempre ad Hamburgo. Brandt, da giovane, si trova coinvolto nella guerra dei Trent'anni, però quando la guerra finisce, lascia l'esercito e non sa cosa fare. Si inventa un ruolo di medico, anche se non è medico e non ne ha i titoli. Passiamo avanti alla seconda, successiva. Viene descritto come un goffo medico che non conosceva una parola di latino. Per esercitare la professione medica del 1600 era fondamentale conoscere il latino, sia perché i testi erano in latino, sia perché evidentemente faceva parte un po' della prassi, di come si presentava il medico. Quindi, goffo medico che non conosceva il latino. Andiamo avanti. Brandt, però, ha un interesse, ha un interesse verso l'alchimia, no? E per coltivare questa arte, fra virgolette, utilizza anche risorse economiche che non ha. In realtà sono quelle della prima e della seconda moglie. Entrambe hanno un patrimonio, arrivano diciamo al matrimonio con un modesto patrimonio e Brandt si impegna a farlo sparire. Se andiamo con una diapositiva. Brandt, comunque, qualcosa di buono deve aver letto. Probabilmente ha letto Paracelso, in particolare quando Paracelso parla della dottrina dei segni. Cioè, in sostanza, Paracelso diceva, se la natura vuole svelare qualcosa, lo fa attraverso dei segni, no? E Brandt pensa, se in natura qualcosa ha il colore dell'oro, vuol dire che contiene oro. Fermo là, che sono sparito, ecco. E andiamo avanti. E si concentra, no? Su una sostanza abbondante, color oro, che sono le urine, le urine umane. Il nostro Brandt è un pasticcione come alchimista. Questa immagine rende un po' l'idea di un pittore olandese, sempre contemporaneo a Brandt. Come vedete, l'alchimista pasticcione sta mandando a fuoco la casa e in fondo c'è la moglie che manda avanti la famiglia, con i due figli che manda avanti la famiglia. Brandt deve essere stata una roba così, più o meno. Andiamo avanti. Cosa fa comunque, no? Prende 50 secchi di urine umane. 50-10 litri a secchio sono 500 litri, insomma, una quantità industriale. Fa evaporare e putrefare le urine fino alla comparsa di vermi. Bellissimo. Fa bollire il materiale rimasto fino ad ottenere un residuo pastoso. Fa fermentare alcuni mesi il residuo in cantina fino a quando diventa nero. Immaginate i profumi, no? Mescola il residuo con sabbia in rapporto 1 a 2. Scalda la miscela in una storta il cui becco è immerso in un pallone contenente acqua. Andiamo alla diapositiva successiva. Ecco, qui vedete la raffigurazione di questo evento dipinta un secolo dopo da un pittore inglese. E scritto c'è il racconto di Brandt. Nel pallone incominciò a prendere forma una sostanza bianca dall'aspetto ceroso. Avanti. Rimossa dall'acqua, la sostanza splendeva nel buio. Talvolta bruciava spontaneamente, originando densi fumi bianchi. Avanti. Quando poi quel giorno tenni nella mano un pezzetto della stessa sostanza e non feci nulla di più che soffiarci come il mio fiato, allora si è acceso un fuoco così vivo che Dio mi dovette aiutare. La pelle della mia mano era bruciata, a tal punto che i miei figli urlavano e gridavano, tanto era terribile a vedersi. Ecco, questo è un ricordo di Hennig Brandt. che compare in una lettera scritta a Leibniz, il grande matematico. Poi parleremo ancora di Leibniz. Brandt chiama questa sostanza caltes foyer, cioè fuoco freddo, o in maniera confidenziale, visto che era sua, main foyer, il mio fuoco. Solo più avanti lo chiamerà fosforo, da greco, luce e portatore di luce, perché questa sostanza aveva una luminosità veramente particolare e diversa da tutto quello che era finora noto. Andiamo avanti. Un attimo di chimica. Che cosa ha ottenuto Brandt? Ha ottenuto il fosforo bianco, cioè ha preparato per la prima volta il fosforo bianco. Partendo da urine umane, in termini chimici, fosfato di calcio, le urine contengono parecchio fosfato, tutte le procedure che ha fatto in vermi, non vermi, in cantina, eccetera, eccetera, non erano necessarie, sarebbe stato sufficiente evaporare la parte liquida e tenere il residuo. Il residuo è stato trattato poi con sabbia, con la silice, e la parte che era servita a Brandt per formare dei residui carboniosi è perché serve il carbone anche in questa ricetta. E quello che si ottiene è quella cosa lì, P4, che sarebbe il fosforo bianco che ha una forma tetraedrica, quindi sono quattro atomi di fosforo legati assieme per formare un tetraedro. Andiamo avanti. L'evento è un evento eccezionale, perché se pensiamo 1669 sulla sinistra della diapositiva trovate i nomi degli elementi che erano notti al tempo. Il primo gruppo noti quasi da sempre, insomma, carbonio, zolfo, rame, argento, oro, eccetera, gli ultimi tre aggiunti tra Medioevo e 600, diciamo, è l'inizio. Il fosforo è un nuovo elemento ed ha una caratteristica particolare, quello di essere ottenuto da un liquido biologico, cioè non scavato in miniera, non trovato in superficie come si potevano trovare le pepite, ma ottenuto da un liquido biologico. Ecco, questo è un fatto eccezionale, cioè mai successa, mai vista una cosa così. Ma il povero Brandt non è in grado di fare grandi ragionamenti. Diamo la diapositiva successiva. A lui quello che interessa da alchimista, con la testa dell'alchimista, è trovare l'oro, in sostanza. E pensa che questo suo fuoco, questo suo fuoco freddo, possa essere una specie di pietra filosofale. L'India è positiva, vedete il simbolo, quel cerchio triangolo, è il simbolo della pietra filosofale, sotto, insomma, c'è una pepita d'oro. Quindi, va avanti con le sue ricerche e per sei anni non dice niente a nessuno. Andiamo avanti. Alla fine non ottiene niente, è ridotto praticamente in miseria, comincia a far circolare la voce che ha scoperto qualcosa di particolare, arrivano delle persone, ma con quelle non si confida, poi alla fine arriva questo signore qua che si chiama Kraft, come la maionese, diciamo, che è un personaggio anche lui un po' particolare, un po' commerciante, un po' così, insomma, e con quello si apre un po' di più e stipulano un contratto. Per 200 talleri imperiali, Brandt si impegna a fornire a Kraft tutto il fosforo di cui ha bisogno. Guardate anche questo bel quadro, sempre di un olandese, che raffigura un po' il contratto fra il farmacista e l'utente. Probabilmente c'è stato un momento di quel tipo lì, con Brandt che tirava da una parte e Kraft che tirava dall'altra. Ok, 200 talleri, bella cifra. E cosa se ne fa? Vediamo la diapositiva successiva. Cosa se ne fa Kraft? Comincia a girare le corti europee per fare delle dimostrazioni. All'epoca, insomma, si faceva, ecco, non solo di chimica, di scienze in genere, di fisica. Nel 1677 arriva alla corte di Hanover. Andiamo avanti. Che tipo di spettacolo poteva fare il Kraft? Utilizzava la luminosità particolare del fosforo. Questo ricordo che riguarda la vita di Wohler, un chimico tedesco del 1800, può darci un'idea di quello che si poteva vedere. Compine la sua stanza esperimenti con il fosforo e si bruciò la mano sinistra così gravemente e che da vecchio si potevano ancora notare le cicatrici. Quindi sostanza pericolosa. Inoltre, le particelle di fosforo schizzarono dappertutto nella stanza e quando la sera andò a letto e spense la luce, vide tutto intorno delle luci che brillavano. Allora lo colse la paura e si precipitò agitato da suo padre, che lo consolò e lo tranquillizzò spiegandogli che il fenomeno non era affatto pericoloso. Ci sarebbe anche qua molto da dire. Comunque, gli spettacoli di Kraft si svolgevano alla sera e erano incentrati sulla luminosità del fosforo. Poi vedremo anche altre cose. Andiamo avanti. Ecco, anzi, vediamo subito. Ci facciamo aiutare da questo signore qua che è Peter Waters che è dell'Università di Cambridge e realizza così, per scopi attrattivi diciamo, ecco, per promuovere della Facoltà di Chimica delle dimostrazioni. Vediamo il filmato e osservate la luminosità particolare del fosforo. Prego. so i'm just picking up a tiny little piece random piccolo pezzo di phosphoro so it's on the sand and it's already caught fire oh there we are look at that so look at this the light that we see here now is the reaction between this very reactive phosphorus burning with the oxygen that's in the air inside this flask and it's making phosphorus oxide this is a chemical reaction but this chemical reaction is giving out light as well as heat possiamo ritornare alla presentazione eccoci qua avete visto quindi il filmato caratteristica del fosforo è quella di diventare estremamente luminoso come entra in contatto con l'aria con l'ossigeno la reazione porta alla formazione di anidride fosforica però la luminosità non è data dall'anidride fosforica ma dalla formazione di alcune specie chimiche che sono instabili e luminescenti tant'è vero che se viene regolata la quantità d'aria la combustione diciamo e la luminosità durano per parecchio tempo questa è un po' la caratteristica del del fosforo andiamo avanti questo è quello che vede anche leibniz dicevamo eravamo rimasti che kraft aveva fatto una dimostrazione ad hanover dove leibniz lavorava le dipendenze del duca di hanover andiamo avanti e leibniz è convinto che il fosforo possa essere utilizzato nell'illuminazione sia pubblica che privata visto questa sua grande luminosità quindi cosa fa va dal duca di hanover e gli dice nel frattempo parlando con kraft ha capito che kraft non era in grado di produrre il fosforo ma gli dice che l'ha comperato da tale brand di hamburgo leibniz dicevo convince il duca ad assumere brand come come alchimista di corte con uno stipendio di 10 talleri al mese e questo vi fa capire cosa vuol dire 200 talleri erano 20 mesi e 60 talleri se brand è disposto a svelare la ricetta brand all'inizio accetta si sposta a 9 per un po di tempo poi dopo vabbè non gli va bene torna dalle sue parti ad hamburgo ma andiamo avanti con la diapositiva il tempo che rimane a danover è sufficiente perché leibniz comprenda insomma come si fa come si prepara il fosforo e in seguito scriverà un articolo la storia dell'invenzione del fosforo in questo articolo brand non è citato ma noi sappiamo quello che sappiamo perché ci sono parecchie lettere scambiate fra leibniz e brand e fra leibniz e la moglie di brand addirittura che per ora avevano stipendio più alto per il marito andiamo avanti nel 1677 arriva anche la dimostrazione della corte di londra quindi il nostro craft lascia la germania va a londra per la cifra spettacolare di mille talleri imperiali questo per dire che il fosforo in fin dei conti era una pietra filosofale no non per ottenere oro come metallo ma talleri d'argento talleri d'argento sì andiamo avanti alla dimostrazione londinese partecipa anche Robert Boyle che è il pezzo più pregiato come chimico del del 1600 e quello per ricordare agli studenti che hanno fatto chimica delle leggi del gas p per v uguale costante andiamo avanti il Boyle aveva pubblicato un libretto che si chiamava lo skeptical chemist cioè il chimico deve essere scettico non si può fidare di quello che era tramandato dagli antichi deve adottare il metodo sperimentale la pratica di lavoratori tutte belle cosette che anche che anche Galileo diceva andiamo avanti e rimane molto la dimostrazione di Kraft rimane molto impressa a a a Boyle scusate e tant'è vero che si si mette a studiare ma volevo ecco tra le varie cose che fa che fa Kraft a parte la sfera luminosa come avete visto nel filmato anche quella di una specie di pennello di di penna scrive la parola domini signore con il buio e con la luminescenza del fosforo questa insomma un effetto veramente particolare tanto che Boyle dice che provai una combinazione di sensazioni stranezza bellezza e paura ecco questo è un po' quello che faceva il nostro Kraft diceva no no torniamo un attimo su quella prima ecco cosa fa Boyle studia si mette anche lui a studiare il fosforo cerca di capire come ottenerlo qualche parola arriva da qualche parte e tre anni dopo pubblica questo articoletto cioè no pubblica scusate scrive questo articoletto lo porta alla Royal Society di Londra dicendo lo tenete qua lo aprite quando sarò morto quindi la ricetta non verrà pubblicata subito ma alcuni alcuni anni dopo andiamo avanti Boyle studia anche le caratteristiche del del fosforo lo chiama spirito della luce notturna e come dice John Hemsley che è uno chimico storico della chimica i risultati che ottenne furono davvero davvero notevoli e per almeno un secolo non si sarebbe fatto alcun reale progresso nella chimica dell'elemento era il numero uno dell'epoca ma per quale motivo no no va bene va bene passiamo per quale motivo Boyle porta la ricetta a Royal Society e la lascia lì in attesa apritelo dopo la mia la mia morte perché ha un allievo no un anzi allievo un po' un allievo un po' un aiutante di laboratorio Godfrey Hankwitz di origine tedesca il quale molto probabilmente in un viaggio in Germania va da Brandt e attraverso Brandt insomma scopre qualcosina ecco poi lavorando lui lavorando Boyle arrivano a quella formulazione ora Boyle è nobile è ricco non ha bisogno di soldi Godfrey ha bisogno anche di qualche di qualche entrata e cosa fa apre un suo laboratorio a Londra e incomincia a vendere il fosforo diventa talmente noto che si dice che una lettera indirizzata mister Godfrey famoso chimico in Londra a Londra venga recapitata ecco bastava scrivere Godfrey chimico Londra ed era noto a tutti andiamo avanti questa questa è una raffigurazione di quello che era il laboratorio di mister Godfrey per circa 70 anni il miglior fosforo d'Europa tant'è vero che si merita anche il nome di fosforus anglicanus quindi anche questo i soldini li ha fatti non come Brandt povero non attraverso l'alchimia ma attraverso la chimica andiamo avanti cambiamo storia una luce così intensa che perfino la luce del sole al confronto appare fioca e ridere a crepapelle cosa sono queste due robe qua vediamo andiamo avanti e andiamo da un altro grande chimico inglese Humphrey Davy andiamo avanti Humphrey Davy scopre la bellezza di sei elementi chimici questi qua contornati di blu sodio potassio magnesio calcio strontio e bario e dà il nome ad altri due elementi quelli contornati in rosso il cloro e lo iodio scoperti da altri ma battezzati da lui quindi siamo anche qua nell'ambito del top del del 1800 andiamo avanti Humphrey Davy viene assunto e lavora per parecchi anni alla Royal Institution la Royal Institution è una istituzione che appunto viene fondata poco prima alla fine scusate del del 1700 con lo scopo con la mission come si direbbe oggi di diffondere la conoscenza e facilitare l'introduzione generale di invenzioni e meccanismi meccanici utili insegnare l'applicazione delle scienze e i fini comuni della vita per mezzo di cicli di conferenze filosofiche e di esperimenti andiamo avanti Davy tiene la sua prima conferenza alla Royal Institution nel 1801 e poi più avanti ne farà moltissime i due temi fondamentali con cui lavora sono il galvanismo da una parte e gli effetti sulla respirazione e poi la chimica pneumatica cioè i vari gas scoperti in quegli anni e in particolare gli effetti della respirazione del protossido di azoto andiamo avanti Davy ama fare esperimenti pubblici le sue conferenze sono vincenti a volte sono esplosive nel vero senso della parola comunica con uno stile ricco un linguaggio non comune e anche un buon scrittore ha lasciato delle opere di letteratura insomma dignitose non alla pari del Davy chimico ma insomma partecipare alle conferenze di Davy diventa una grande moda un obbligo fra virgolette cioè un must come si direbbe oggi le conferenze sono seguite anche da un migliaio di persone sono un richiamo non solo per i londinesi ma anche per gli stranieri che visitano Londra alle conferenze di Davy partecipano anche Coleridge scrittore romantico e quello della ballata del vecchio marinaio e anche Mary Shelley la scrittrice di Frankenstein Davy un uomo elegante affascinante un dandy inglese e tra il suo pubblico prevale diciamo la componente la componente femminile andiamo avanti cosa incredibile le sue chemical lectures le sue letture chimiche generano un traffico di carrozze tale da bloccare la viabilità quindi la Albemarle Street la sede della Royal Institution diventa la prima strada londinese a senso unico pensate cosa possono fare le conferenze della chimica Davy legge i successi di Volta pensa che la pila sia una cosa veramente interessante e si fa costruire una pila formata all'inizio la prima da un centinaio di piastre di rame e zinco e comincia delle sperimentazioni elettrochimiche in sostanza di elettrolisi e questo lo porterà appunto come dicevo prima a scoprire sodio, potassio, magnesio, calcio strada ma anche al bario nella diapositiva anche se uno ci mette tutte le attenzioni dimentica sempre qualcosa c'è anche il bario nel corso dei suoi esperimenti si imbatte in due importanti fenomeni l'incandescenza cioè quella che poi dà origine alle lampadine quelle al tungsteno e l'arco voltaico dell'arco voltaico lui dice che genera una luce così intensa che perfino la luce del sole al confronto appare fioca e questa cosa che vedete nell'immagine lì sulla sinistra della diapositiva assomiglia a un uovo e viene chiamata uovo elettrico di Davy andiamo avanti questa è la seconda grande pillar che si fa costruire formata addirittura da duemila piastre andiamo avanti eccolo qua nelle conferenze la grande pila si trova negli scantinati della Royal Institution le conferenze si fanno al piano nobile e vedete che sulla scrivania lì c'è l'uovo l'uovo di Davy e fa una serie di dimostrazioni insomma sul potere dell'elettrochimica nel generare insomma luce quindi siamo passati dal fosforo all'arco voltaico Davy studia anche il gas si occupa particolarmente del protossido di azoto pensa che il protossido di azoto possa essere un anestetico lo suggerisce anche in chirurgia però insomma non viene ascoltato almeno per una quarantina d'anni andiamo avanti però lo utilizza per i suoi esperimenti le sue conferenze questo è il racconto di Davy quando sperimenta su di sé il protossido di azoto dice quasi immediatamente si produsse un brivido esteso dal torace alle estremità le mie impressioni visive erano abbaccinanti e chiaramente amplificate sentivo distintamente ogni suono nella stanza aumentando le sensazioni di piacere persi ogni legame con le cose esterne successioni intense di immagini mi attraversarono la mente ed erano collegate alle parole in modo tale da produrre percezioni perfettamente nuove mi trovavo in un mondo di idee appena connesse e modificate teorizzavo immaginavo di fare delle scoperte andiamo avanti e questo è il racconto di Coleridge quindi ricordiamo lo scrittore la prima volta che ispirai il protossido di azoto sentivo una sensazione molto piacevole di calore in tutto il corpo simile a quella che si prova quando tornando a casa ad una camminata sulla neve si entra in una stanza calda l'unico gesto che mi sentivo incline a fare era di ridere di quelli che mi guardavano sentivo gli occhi gonfi e alla fine il cuore mi batteva come se saltasse su e giù una volta rimosso il boccaglio tutte le sensazioni svanirono quasi all'istante andiamo avanti una caricatura dell'epoca che fa vedere insomma ecco come come Davis si esercitasse e proponesse di respirare il protossido di azoto solo che nella caricatura il protossido di azoto entra diciamo a monte per uscire a valle in maniera amplificata e diversa secondo questa caricatura Michael Faraday Michael Faraday è un ragazzino di 14-15 anni che lavora come apprendista libraio in una libreria di Londra riceve in omaggio da un cliente della libreria dei biglietti per partecipare alle dimostrazioni di Davy le segue con attenzione assoluta trascrive ogni parola che dice che dice Davy rilega queste trascrizioni visto che fa l'apprendista libraio e consegna un il volume a Davy Davy lo guarda rimane stupito all'inverosimile e assume Faraday in laboratorio alla Royal Institution Davy definirà l'aver incontrato Faraday la scoperta più grande la mia scoperta più grande andiamo avanti Davy muore piuttosto giovane sperimentava su di sé tutto quello che faceva quindi insomma in parte è anche avvelenato dalle sue sperimentazioni a Davy subentra Faraday subentra Faraday anche come conferenziere è altrettanto valido affascinante eccetera eccetera e inventa un nuovo filone quello delle conferenze natalizie rivolte ai ragazzini quindi non solo agli adulti alla sera ma rivolte quelle pomeridiane rivolte ai ragazzini ecco la conferenza più famosa che viene tuttora ripetuta la Royal Institution l'anno scorso probabilmente no causa Covid ma ogni anno è la storia chimica di una candela andiamo avanti qui vedete raffigurato Faraday ancora avanti e qua appunto con un auditorio composto da ragazzini andiamo avanti altro esperimento altro scienziato questo esperimento si chiama cane che abbaia capirete poi perché avanti ed è un esperimento che venne proposto da Liebig Liebig grande chimico tedesco il nome Liebig vi ricorderà il dado ma questo è vero non come Kraft che è solo un caso andiamo avanti questa è la corte di Monaco di Baviera Ludwig I e Teresa assieme ai loro figli andiamo avanti perché li abbiamo messi li abbiamo messi perché nel 1853 Liebig nel corso di una conferenza che si tiene a Monaco di Baviera a cui partecipano anche la regina Teresa e il principe Leopoldo presenta un esperimento spettacolare detto in chimica la combustione del sulfuro di carbonio in ossido di diazoto o protossido di azoto visto che l'abbiamo chiamato protossido continuiamo a chiamarlo protossido di azoto la dimostrazione dello spettacolo piace a tutti e viene richiesto il bis andiamo avanti la seconda volta però si verifica una terribile esplosione che frantuma il tubo di vetro sede della reazione le schegge colpiscono i reali e lo stesso Liebig Liebig per sua fortuna intascano una tabacchiera che gli blocca una scheggia che probabilmente era diretta verso l'arteria femorale andiamo avanti quando dopo la terribile esplosione mi guardai attorno nella stanza dove si levano gli uditori e vidi scorrere il sangue dai volti della regina Teresa del principe Leopoldo il mio terrore era indescrivibile ero mezzo morto per fortuna l'incidente non ebbe altre conseguenze spiacevoli le loro altezze si comportarono in maniera nobile e magnanima tutte le loro preoccupazioni sembravano concentrarsi soltanto su di me infortunato la regina mi mandò quella stessa sera il suo medico ed ogni giorno le loro altezze si informarono della mia salute l'indomani venne l'anziano re Ladovico in persona e mi chiese se la mia ferita fosse grave e quando rispose di no esclamò allora va tutto bene se a voi non è successo nulla il resto non ha importanza questo è un racconto di Liebig al suo collega Wohler che cos'era questo esperimento viene chiamato in gergo il cane che abbaia o barking dog la combustione del solfuro di carbonio in protossido di azoto porta esplosiva diciamo ci aiutiamo con il filmato no no un'esplosione 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 reacting with the oxygen in the air forming a brown gas called nitrogen dioxide well I'm going to add some carbon disulfide to this carbon disulfide is a little like carbon dioxide but instead of the oxygen atoms the two red atoms that we see in the carbon dioxide molecule up there we have sulfur instead carbon disulfide so we're mixing these two reagents together and in a moment we're going to apply a light to the top and you should see some light forming okay thank you just in case you missed that one we'll try a slightly bigger one okay so we're mixing the two together the nitric oxide NO and the carbon disulfide if you have the lights down please okay possiamo tornare alla diapositive vedete la reazione estremamente esplosiva vedete avete visto una fiamma e avete visto anche un forte rumore che ricorda quello di un cane che abbaia da lì appunto il nome dato a questa a questa reazione nel caso di di liebig probabilmente aveva caricato troppo no il suo tubo di reazione e il vetro era esploso mandando le schegge dappertutto ok andiamo avanti serpente del faraone che cos'è questo vediamo subito che cos'è ecco questa è un'invenzione di dell'amico di liebig voler sempre chimico tedesco andiamo avanti qui diciamo una cosa su voler che è quello che per primo ha sintetizzato un composto di tipo organico ed era l'urea e quello che ha mandato alle ortiche le teorie del vitalismo perché si diceva prima di questo prima di di voler si diceva che tutto quello che era organico biologico non poteva essere ottenuto in laboratorio invece lui ottiene l'urea componente delle urine per via sintetica e quindi insomma grande successo è cambio cambio di direzione per la chimica andiamo avanti la descrizione di questa della reazione del serpente di reazione è fatta da un collega chimico di voler che aveva assistito poi alla presentazione è costituito da un mucchietto di polvere pressata a forma di cono di colore bianco grigastro che viene bruciato su un supporto resistente al fuoco si sviluppa una fiamma bluastra da cui emerge un mostro giallo marroncino dalla forma bizzarra ciò richiama alla memoria il racconto biblico secondo il quale Mosè tramutò in serpenti davanti agli occhi del faraone il proprio bastone e il bastone dei suoi compagni vediamo che cos'è questa cosa qua è la reazione di combustione del tiocianato di mercurio vediamo il filmato poi dopo commentiamo il filmato torna indietro possiamo magari saltare un pochino avanti ok ok possiamo interrompere tanto abbiamo visto torniamo torniamo la presentazione ok abbiamo interrotto perché si interrompeva il filmato comunque lo trovate se volete in internet no no andiamo su quella ma basta fare anche una ricerca su google andiamo con la diapositiva successiva non tanto con l'italiano serpente del faraone ma quanto in inglese farao serpent è una reazione tutta questa roba qua che è abbastanza inquietante se ci pensate è generata dal tiocianato di mercurio che nel bruciare quindi tiocianato di mercurio fiamma nel bruciare genera tutta una serie di composti a cascata che sono alla temperatura a cui avviene la reazione sono gassosi e quindi c'è questa continua crescita dovuta al fatto che si sviluppano delle sostanze gassose che gonfiano la massa ecco serpente del faraone perché ricorda appunto il il serpente di Mosè andiamo avanti questo è col tiocianato di mercurio genera sostanze molto pericolose non va fatto assolutamente come esperimento questa è una formulazione un momentino più tranquilla ma comunque sempre pericolosa se possiamo tornare un attimo a quella di prima eccola torniamo andiamo avanti ancora avanti eccola qua questo usa degli ingredienti un momentino più tranquilli ma come dicevo pericolosi perché c'è l'alcol e l'alcol brucia sabbia alcol etilico bicarbonato di sodio e zucchero andiamo a vedere il film andiamo avanti scusate ecco anche qua il principio è sempre quello il bicarbonato brucia formando dei gas l'alcol etilico brucia a sua volta formando gas a quella temperatura ovviamente l'acqua e vapore lo zucchero a sua volta brucia e forma anche dei residui carboniosi per cui questo serpente è di color grigio andiamo al filmato anche questo lo trovate su internet quindi componenti zucchero bicarbonato sabbia qua usa la benzina avium insomma dei peraccendini ma siamo lì anche questo si pianta anche se in realtà da casa lo continuano a vedere ah ah o è ah 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 Grazie. Grazie. No, niente. Torniamo alla presentazione. Grazie a tutti. E utilizza delle sostanze meno tossiche ma pericolose comunque, per cui non sono cose che si fanno così tranquillamente. Bisogna lasciarle fare a chi le sa fare. Andiamo avanti. Dentifricio dell'elefante. Finalmente arriviamo a Miss America. Andiamo avanti. Miss America 2020, Camille Schreier, è una ragazza che si è laureata in biochimica e sistemi biologici alla Università della Virginia, la Virginia Tech. E alla Virginia Commonwealth University sta frequentando un dottorato di farmacia, quindi insomma diciamo che ha un pedigree da chimico. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ha realizzato un esperimento veramente molto particolare. Andiamo subito a vederli filmato. Un attimo solo perché non è caricato fino alla fine e secondo me si blocca anche questo. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.